amici di youtube ben trovati da marco licuori avviso importante qualora questo video dovesse superare i 600 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo e ste video tambien ne sta tradusito all'espagnolo amici di youtube tenetevi forte perché sto per darvi una notizia davvero clamorosa la notizia del ritorno di romina power a cellino san marco vado a leggere l'articolo pubblicato poco fa in modo tale da ragguagliare tutti i fan di albano in romina con l'ultima novità della splendida coppia la coppia più amata dagli italiani mi sembra quasi di parafrasare un famoso spot di una cucina uno spot molto in auge degli anni 90 in realtà albano e romina sono i più amati dagli italiani apprendiamo che romina power continua a godersi le vacanze insieme ai suoi figli nella tenuta di albano quindi romina è tornata a cellino san marco notizia clamorosa uno scoop clamoroso come diceva sempre il grande aldo biscardi uno scoop e la serata che vedeva come ospite mogolle per chi non lo conoscesse per i più giovani del canale sappiate che mogolle è un parolire colui che scriveva le canzoni al grande lucio battisti in realtà lucio battisti è il mito mogolle colui che stava dietro le quinte un personaggio famoso ma poco famoso poco conosciuto ai millennials andate su google e cercate mogolle è stato un personaggio chiaro della musica italiana dicevamo c'è stata una sorpresa per le parole per la spiegazione del mio canto libero la spiegazione è che nella canzone racchiusa la fine del matrimonio di mogolle avvenuto 40 anni fa amici dove si tratta sicuramente di una delle canzoni più belle una delle canzoni di lucio battisti in assoluto una delle canzoni più importanti della musica italiana quindi abbiamo conosciuto anche il significato della mitica e inimitabile canzone il mio canto libero e romina power però che credo sia quello che interessa più a voi ha mantenuto le distanze con albano sappiamo che c'è stato anche un bel concerto un concerto che ha visto protagonista anche iari carrisi e la sua nuova fiamma tea crudi ma tra albano e romina sebbene romina sia a cellino san marco c'è ancora un rapporto tiepido quindi nessuna novità dal punto di vista dal fronte albano e romina amici dove a questo punto aspetto i vostri commenti cosa ne pensate innanzitutto del ritorno di romina power a cellino san marco e cosa ne pensate della dichiarazione shock del paroliere mogolle che spiega che il mio canto libero era il canto del cigno del suo matrimonio il canto del cigno che c'era stato pensate 40 anni prima amici dove vado a tradurre questo video anche in spagnolo apprendiamo che romina paura regressa a cellino san marco grazie a sat autos amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo che a 600 like pubblicherò immediatamente un nuovo video vado anche a leggere qualche commento il commento per meglio dire i commenti del giorno del video precedente il video precedente era il video in cui romina power parla della meravigliosa dedica che ha fatto a suo padre il mitico inimitabile iconico tyron power il video ha riscosso un buon successo e come promesso vado anche a leggerne qualche commento anna de giorgio ci dici tyron power era il mio attore preferito ed ora voglio tanto bene a romina grazie anna che bel commento mia pacux che poi lo pseudonimo di susanna figueroa ci dici mia cara romina donna indimenticabile sostenuta dal ricordo di suo padre che tiene sempre presente nei momenti di grazia grazie marco grazie susanna che non so perché da poco si chiama mia pacux ascolta uno stupido susanna firmati con il tuo nome meglio e meno fuorviante mi aiuta a riconoscerti marilena chiari ci dice indimenticabile affascinante il papà di romina un abbraccio maria robustelli ci dice era il mio idolo mi è sempre piaciuto è nel mio cuore romina lo sa cosa significa perdere un genitore grazie maria rubustelli carmen duran sanchez ci scrive un commento in spagnolo grazie a smarco romina sempre con su papà paola piscetta ci dice romina sei meravigliosa è un animo nobile concludiamo con rosio e spinosa che ci dice grazie por desir en español grazie a todos e grazie a tutti amici scrivete commentate i prossimi commenti ad essere letti in diretta di fronte a migliaia di italiani migliaia di persone che mi seguono dai paesi latini potrebbero essere i vostri un saluto da marco liguri vi ricordo a 600 like pubblicherò immediatamente un nuovo video bombardate il tasto dei like ci sarà un nuovo video su albano e romina ciao a tutti